Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. Sempre in A1 verso Bologna per incidente restano rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Infibili possibili disagi per veicolo fermo o in avaria in uscita a Livorno Aurelia per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico ferroviario. Segnaliamo circolazione perturbata nel nodo di Firenze, modifiche alla circolazione per investimento mortale nei pressi di Montecatini Terme e provvedimenti di circolazione per un controllo tecnico ai sistemi di bordo al treno 18205. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Buonasera, Sintoscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Sintoscana Info